Ciao ragazzi, Extra torna a Firenze il 12 febbraio con tante sorprese, ci saranno i sex shooters direttamente da Londra, il duo di DJ più sexy del momento e ritorna il grande Enrico Meloni direttamente dal Mucca Assassina, quindi vi aspettiamo con tanto tanto Extra Ciao Ayo! Happy Love Happy Love Happy Love Happy Love Happy Love